Cresce e diventa un'eccellenza molisana il porto turistico di Montenero di Bisaccia. Trieste ha ottenuto un riconoscimento di importanza nazionale. Blue Marine Awards 2023 è il riconoscimento ottenuto dal porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia. I Blue Marine Awards, promossi da Asso Nautica Italiana, sono premi istituiti per riconoscere ufficialmente i porti turistici italiani più meritevoli in termini di innovazione, qualità, sicurezza e sostenibilità. L'eccellenza rappresentata dal porto turistico di Montenero è motivo di orgoglio per i cittadini, ma anche per l'amministrazione comunale. Esprimo le mie più vive congratulazioni, afferma soddisfatto il sindaco di Montenero, Simona Contucci, alla proprietà e a tutto il personale del Marina Sveva, per aver ottenuto il Blue Marine Awards 2023, un premio prestigioso che riconosce la dedizione e il grande lavoro svolto in questi anni nel far crescere con serietà e competenza i servizi del porto turistico montenerese.